Nel salone del seminario Vescovile di Nola la cerimonia finale del premio letterario Il Candelaio, promosso ed organizzato dal circolo culturale Passepartout. A ricevere l'importante riconoscimento gli attori Marco Bocci di Squadra Antimafia, Beatrice Fazzi di Un Medico in Famiglia, Nunzia Schiano di Benvenuti al Sud e l'autore e conduttore radiofonico Luca Bianchini. Il premio, giunto alla sua seconda edizione, è patrocinato dall'amministrazione comunale di Nola ed è riservato agli alunni delle scuole del territorio con l'obiettivo di avvicinarli al mondo della cultura invogliandoli alla lettura dei testi. Vero mattatore della serata Marco Bocci, meglio conosciuto come rispettore calcaterra di Squadra Antimafia. Bocci è anche autore del romanzo A Torbella Monica non piove mai, in cui si parla di periferie degradate in cerca di riscatto e di come la legalità debba essere la bussola per ogni cittadino. Temi attualissimi nel napoletano e nel suo Interland. Descrivere soprattutto una situazione che può mettere in alcuni momenti in difficoltà tante brave persone oneste, ma che li stimola a non cadere in tentazione, ovvero a non cercare in qualche modo di farsi giustizia da soli, anche cambiando la propria natura. Ci sono dei personaggi che si improvvisano criminali, naturalmente ci sono periferie che sono molto più sofferenti rispetto a quella che descrivo io e sono dinamiche estremamente difficili da gestire, che è molto difficile riuscire sia a dare un giudizio che un consiglio che un'opinione.